Notifiche con Blink. Parleremo ancora di Blink, questo sistema molto interessante per realizzare applicazioni di internet degli oggetti o IoT. Oggi vedremo come andare a implementare una notifica sull'app. Quindi avremo un hardware con un tasto, premendo questo tasto, sulla nostra app comparirà un messaggio che dice che è successo qualcosa. Questo sistema si può utilizzare per rilevare una condizione anomala che richiede la nostra attenzione e un intervento rapido. Iniziamo subito. Partiamo sempre dallo sketch di base di Blink per la nostra scheda, quindi Board Wi-Fi MKR10. Nel nostro sketch andiamo a impostare il token che prendiamo dall'app, il nome della rete Wi-Fi e la password. Quindi inseriamo queste informazioni, poi sistemiamo un attimo lo sketch per fare un po' di pulizia. Vogliamo andare a segnalare una notifica all'app. Usiamo un sistema che abbiamo già adottato, quindi collegheremo un tasto al pin 2 dell'Arduino MKR 1010. Il tasto si collega nel solito modo, ormai dovreste già saperlo. Quindi questo è l'MKR, il pulsante lo colleghiamo con la solita resistenza da 10K, messa a ground, questo GND. Nell'altra parte prendiamo il PCC che vi ricordo è a 3.3V, questo è il tasto e andiamo a collegarlo al pin 2 della nostra scheda. Torniamo al nostro sketch, per correttezza andiamo a specificare pin mode 2 come input perché da qui leggeremo l'ingresso. Poi ci mettiamo sotto in fondo al loop, qui chiamiamo la funzione blink read su il pin virtuale V2. Andiamo a leggere il tasto int bt uguale, facciamo digital read del pin 2. Qua facciamo if bt, se il tasto viene premuto chiamo blink.notify. Questa chiamata fa sì che si apra una finestrina di notifica sull'app di blink, sul telefono. Quindi facciamo notifica, posso far uscire il messaggio anche su serial monitor con serial.println così lo vediamo scritto. Facciamo notifica e mettiamo un delay per evitare di inviare troppe notifiche perché se tengo premuto il tasto e entro più volte in questa funzione vado a inondare il server e questi mi bloccano. Si possono inviare al massimo se non sbaglio 5 notifiche al secondo che sono già parecchie. Infine qua sotto andiamo comunque a scrivere qualcosa nel pin virtuale con blink.virtualwrite e il pin che usiamo è V2, gli mettiamo il valore dbt. A questo punto possiamo compilare lo sketch e caricarlo sulla scheda. Ok vediamo che la nostra scheda è pronta, è collegata alla console. Chiamiamo l'app di blink, andiamo a prendere quella a cui abbiamo collegato il token, che è il remote led nel mio caso. Andiamo ad aggiungere qua un value display per poter visualizzare il virtual pin che andiamo a scrivere. Mettiamo virtual, il pin è il V2, andiamo ok. Andiamo all'aggiornamento a un secondo e torniamo indietro. Ora aggiungiamo un altro widget che è il widget notification. Lo vediamo qua sull'app a forma di telefono. Facciamo play, attendiamo che l'hardware sia online, in questo caso è già pronto. Premiamo il tasto e dovrebbe apparire una notifica. Come avete visto blink è sicuramente un portento e semplifica tantissime delle operazioni. Oggi abbiamo visto la notifica in modo pressoché analogo potete utilizzare il componente email. Quindi se volete potete provare voi a sperimentare, altrimenti fatemi qualche richiesta nei commenti che lo preparo nei prossimi giorni. Bene vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!